Settemila persone hanno partecipato a Venezia alla fiaccolata silenziosa per Valeria Solesin, la giovane ricercatrice uccisa nella strage di Parigi. Migliaia di lumini accesi e tante presenze silenziose che si sono incontrate nella città lagunare, rispondendo all'appello lanciato dal comune e dai social. Erano presenti numerose persone che Valeria conosceva, ma la maggior parte erano tanti di noi che con la loro presenza hanno voluto esprimere un segno d'affetto verso quel volto innocente massacrato assieme a tante altre giovani vite. Tra i presenti c'era anche il fratello di Valeria, Dario Solesin, che commosso desidera ringraziare. Nel corso della serata vi è stato un lunghissimo applauso, una piazza San Marco addolorata ma composta e unita. Per il primo cittadino anche una città coraggiosa. Brugnaro ha anticipato che vorrebbe dedicare a Valeria Solesin un ponte lagunare.